buongiorno sono giampaolo pasolini dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presentiamo questa splendida audi q3 della fine del 2014 la vettura un unico proprietario comprata da privato per sfizio ha percorso solamente 6.600 chilometri originalissimi la vettura in condizioni pari al nuovo ed è super accessoriata perché monta il doppio pacchetto es line interno ed esterno ruote da 20 pollici a rotore sensori di parcheggio anteriore e posteriori con sistema di parcheggio automatico è il motore 2000 turbodiesel con la trazione integrale 4 e il cambio automatico sequenziale estronic la macchina è meravigliosa il grigio è il grigio daytona metallizzato a un costo pazzesco a listino vi mostro gli interni questa splendida vettura vedete sedili sportivi con alcantarra traforato e pelle date line maravigliosa suona il cicalino perché la chiave è girata durante sportivo cruise control il cambio estronic mostro i chilometri dobbiamo 6634 la vettura è dotata anche di navigatore satellitare monta il bluetooth l'alluminio interno è nuova peccato che nel video non si possa registrare il profumo di questa vettura ancora la garanzia ufficiale anche l'estensione fino a 90.000 chilometri vi aspetto gussago in provincia di brescia per vederla provarla ed eventualmente acquistarla grazie a tutti